un autore un'opera forse poco conosciuti federico zuccari nacque nel 1539 da una nobile famiglia di sant'angelo invado nel ducato durbino situato nel centro italia è inserito tra i più grandi esponenti del manierismo quella corrente artistica che seguì al rinascimento e anticipò lo stile estroso e fantasioso del periodo barocco iniziò la sua carriera da pittore nel 1550 quando si trasferì nella bottega di suo fratello maggiore taddeo a roma cristo morto tra gli angeli è un dipinto realizzato da federico zuccari ma che in passato fu attribuito proprio al fratello maggiore compagno di lavoro l'opera originariamente faceva parte di una pala d'altare rappresenta una scena notturna con cristo deposto colto in una posizione verticale come fosse stato appena tolto dalla croce il corpo di cristo è al centro del dipinto sostenuto da cinque angeli creando una composizione a piramide delimitata da quattro lunghi ceri che producono uno spazio geometrico triangolare ai due lati della tela oltre a illuminare la scena notturna le candele scandiscono la prospettiva della scena la figura di cristo è inclinata morbidamente su un sasso in una posa che lo fa sembrare ancora vivo i cinque angeli lo vegliano pregando e dal suo volto reclinato parte una luce soffusa come una promessa di vita eterna la scena si svolge all'esterno ma poco distinguiamo del paesaggio solo terra pietra e qualche ramo sullo sfondo così la nostra attenzione è calamitata nel centro del dipinto tra il 1608 e il 1619 una serie di dipinti vennero portati via da diverse chiese romane per finire nella collezione di scipione borghese e probabilmente fra questi c'era il dipinto di federico zuccari che è attestato a palazzo borghese dal 1622 una versione molto simile di quest'opera eseguita sempre dall'artista la potete vedere nel palazzo ducale di urbino inoltre un disegno preparatorio per la tela di galleria borghese con solamente la figura di cristo a mezzo busto è conservato alla galleria degli uffizi insieme al disegno di taddeo per la composizione completa figura di protagonista del manierismo federico zuccari formandosi a fianco del fratello unì la lezione di michelangelo con gli insegnamenti provenienti dalla conoscenza di correggio e dell'arte veneta cristo morto fra gli angeli forse una delle opere d'arte sacra che più ricorda le forme di michelangelo e anche per questo merita tutta la vostra attenzione ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando